ma perchè non mette mai i blocchi all'inizio? no li mette ma ci vuole il tempo per bloccarli si che gira ma il Mercedes va a scatti perchè va un po' a scatti rispetto alle altre macchine prova lì no 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 sei ben di là eh di là e se passi fuori proprio? più là? se passi più a destra ancora? ah cap- ma no dopo adesso senti fai come facevi prima poi buttati a destra dopo ma sto più sotto lì no più là e poi si gira qui passa la gente all'albero e poi giri a destra più che vuoi io avrei provato a stare più a destra dai così insisti un po' che poi sali tanto fra qua non ce ne sono più di pieni devi riuscire ad andare più là è per quello che tu ti stampi a destra devi stare completamente a destra se no rimbalzi di fuoco qua non c'è 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 prova a partire prova a partire ma prendila sempre così come la stai prendendo ma che ne puoi si rompa vabbè non vogliamo che si rompa lì ha paura di rompere però cazzo se non la rompi qua dove la rompi ti viene qua per riuscire a andare più là se non riesci ad andare più là non viene su perchè picchi contro il muro qua davanti ma scusa un po' se la scremi di più che la spiani un po' più là è salito ma è stato in là a sinistra o a destra? di là, a destra così salvati un po' provi e vabbè un po' ma io non l'ho capito se ha un cambio manuale è andata giù è andata giù automatico adesso inizia a penare no serve un buono è andato un trezzo ti sei giocato il primo jolly con quel crepo lì ti sei giocato il primo jolly con quel crepo che hai dato adesso sei rotto eh